Ciao amici di Piazza Affari, voi mi dite sempre, ma tu nei video sei sempre divertente, sei sempre allegro. Bene, oggi sono un po' meno allegro degli altri giorni. Cos'è successo direte voi? Per la carità, niente di grave. Semplicemente ce l'ho su un po' con questo nuovo sistema dello scontrino elettronico che dobbiamo fare noi commercianti. Come sapete, tutte le sere dobbiamo inviare la chiusura del registratore telematico, comprato nuovo, dopo che l'anno scorso l'avevo appena cambiato. Vabbè, ma tralasciamo queste cose, praticamente devi essere collegato a internet. Se internet non va e hai dei problemi, sono cavoli. Cosa succede? Dal lunedì che praticamente il mio registratore fiscale non invia la chiusura all'agenzia delle entrate. Mi dice il tecnico oggi che praticamente dopo 12 giorni il registratore di cassa si ferma e smette di funzionare. Oibo, allora oggi mi impunto e dico, ma come mai il computer funziona collegato alla stessa rete e il registratore di cassa no? Tocca, tocca di qui, tocca di là, guardate, è tutto oggi, qua è da vedere, è tutto oggi che tribulo. Nella speranza di riuscire a arrivarne una. E in pratica stacco il computer, stacco il registratore, anche perché non è come dirlo. Cioè, vi dico solo che alla fine il mio amico tecnico mi ha detto, ascolta, per non farmi intervenire e spendere dei soldi, fai una bella cosa, stasera lo stacchi e lo provi a casa. Ho detto, sì, posso anche farlo, provate ad attaccare anche un altro modo, eccetera, eccetera. Io posso anche farlo, posso fare tutto. Però non è che tutte le volte io devo scombinare mezzo negozio, portarmi il registratore di cassa a casa. Insomma, che alla fine è dalle 5 che tribulo, sono le 6 e mezza, ce l'ho fatta. Questa è la chiusura, questo è lo scontrino della chiusura, perché è da lunedì che non fa. Ma io dico, ma se andassi una settimana in vacanza, cosa succede? Esplode il negozio? Se io, e io mi reputo, non sono Einstein, però mi reputo un po', diciamo, amico delle tecnologie, no? E io che sono amico delle tecnologie, tutto il giorno che tribulo, una persona normale cosa fa? Chiama il tecnico del registratore di cassa che magari gli prende giustamente l'uscita e non risolve niente. Chiama il tecnico di internet e non è che viene subito il tecnico di internet, ma viene dopo una settimana, perché non è che sono tutti lì così per voi, cari amici dell'agenzia delle entrate, per voi, cari amici del governo, che vi svegliate la mattina e non avete niente da fare e vi inventate queste cose. Quindi, vabbè, dai, niente, amici come prima, cari amici di Piazza Affari, voi, quelli là, un po' meno amici. Vado a rotolare sul mio bel scontrino chilometrico, cerco di farmi passare il nervoso per tornare domani da voi a farvi vedere le nostre proposte e fatemi venire il sorriso, venite a comprare la Piazza Affari, almeno mi date qualche piccola soddisfazione. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!